ragazzi ma mi piacciono queste giostre si stiamo giocando in queste giostre già da ore e ore e non siamo ancora stanchi perché sono bellissimi c'è il scivolo c'è ma la masha dov'è dov'è masha l'avete vista che fa che bello ma mi piace tantissimo queste giostre sono così divertenti divertenti sì possiamo giocare tutto il giorno qui vediamo cosa c'è più lontano che cos'è ma che cos'è vediamo lo porto ai ragazzi lo faccio vedere vediamo insieme che cos'è masha ben mini ma che pensate voi lo dobbiamo aprire eh ma se dentro c'è qualcosa di brutto sì o qualcosa di pericoloso ma no non sembra è mio adesso lo apro io e vedo cosa c'è dentro da sola no mini è mio lo vedo io io sono il maschio così lo apro io e basta stop no mio no io no no non voglio lo voglio io mio no è mio lo prendo io prendo io ragazzi io l'ho visto no l'abbiamo l'ho visto anch'io dobbiamo aprire sì ma non devi aprirlo non voglio che l'apri oh ma io l'ho visto mi sono affesa peppa e ragazzi ma sta scappando non dobbiamo fermare è qui eccolo si è fermato eccoci qua oh ma si è spaccato ma che ma è una noce ma si può mangiare sì ma bisogna togliere la brucia come facciamo oh no ma guarda quanti ma è un albero di noci ecco perché cadono dassù perché è un albero crescono in alto sì hai ragione mini ma ci bastano per tutti ma perché litighiamo noi adesso mangiamo questo un pezzettino per te un pezzettino per me ok anche un pezzettino per te ben prendilo eccoci qua ma quanto è buona sta noce visto l'abbiamo diviso e non abbiamo litigato siamo bravi perché così si comportano gli amici sì da ora in poi dividiamo tutto quello che c'è per noi per 4 per 5 per 6 quante saremo così dividiamo perché così si comportano gli amici senza litigare sì anche queste sono nostre li facciamo assaggiare agli altri sì che bella scoperta oggi che è mangiabile ragazzi sapete cosa ci ho pensato io cosa hai pensato abbiamo un'idea sì vi porto la palla giochiamo la palla sì mi piace il gioco della palla io la passo a te te passo a me io passo a ben ben prendi la palla l'ho presa tienila ragazzi ma cosa state facendo nel giardino stiamo giocando a palla ma non si può ve la portoglia non mi piacciono i giochi con la palla non la prendete mai più questa palla ci ha portato via la nostra palla adesso dobbiamo andare a cercarla o trovare un altro gioco buona idea giochiamo a frisbee tira io presa ma non mi piace tanto questo gioco neanche questo non mi piace tanto ma ci stai portando via tutti i giochi ma noi non ci facciamo male giocando a questi giochini qua sì ma non si può questo è giardino mio che cattiva che dobbiamo andare a cercare la nostra palla l'avrò nascosta di sicuro da qualche parte sì andiamo a vedere dove l'ha messa un'idea secondo me è qui cosa dite dobbiamo aprirla e come facciamo aprirla adesso apriamo mettiamo qui un'altra palla chiudila chiudila non ci prova adesso aspetta facciamo questo l'ho chiusa ecco adesso possiamo giocare con questo lo nascondiamo dalla signora che non ce la porta via ragazzi dietro le schiette eccola qua facciamo fare lo scambio con lei con la nostra noce e lei ci dà indietro la palla cos'è questa noce cosa c'è dentro non c'è niente dentro non la vuole la nostra noce ma come facciamo adesso partiamo via le la nascondiamo dai qui non la trova di sicuro sì non la trova ecco adesso lei viene a cercare la noce noi l'abbiamo nascosta signorina signorina non troviamo la nostra noce ci aiuta a cercarla sì certo così facciamo un gioco tutti insieme ragazzi dov'è che è? secondo me non la trova non la trova dove l'avete nascosta quella grande bella noce? non la vedo ragazzi dov'è? ma noi l'abbiamo nascosta qui la cerca meglio l'ho cercata qui non c'è vedo di qua qua non c'è non c'è neanche di qua neanche di qua dov'è? è qui è qui cerca meglio è qui è qui vediamo mi piace sto gioco ragazzi mi piace giocare con voi vediamo di qua se potrebbe starci qua ma secondo me adesso la trova la trova di qua non c'è eccola qui la noce l'ho trovata sì l'ho trovata la nostra noce eccoci qua cosa c'è dentro questa bellissima noce ragazzi? ah noi abbiamo nascosto una cosa abbiamo nascosto una cosa proviamo ad aprirla sì proviamo ad aprirla l'ho chiusa io voilà abbiamo nascosto una palla dentro per giocare che bella questa palla vogliamo giocare tutti insieme sì perché a noi piace giocare a palla va bene giocate dai gioco anch'io con voi adesso voi ragazzi potete giocare nel mio giardino grazie mille prende la palla bellissimo questo gioco quanti buoni dolci abbiamo qua sì buonissime mangiazioni è rimasto solo uno sì ma dobbiamo mangiare questi che abbiamo preso che sono dei buonissimi gelati mio buonissimo che mio però è rimasto un pezzo come facciamo? ah beh non lo so come facciamo io dico che dobbiamo trovare qualcuno che aiuta a dividerlo sì sono d'accordo anch'io andiamo andiamo a cercare qualcuno no 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 torta chissà di chi è questa torta? devo andare a chiedere ai ragazzi non posso mangiarla senza chiedere di chi è qui non c'è nessuno andiamo di qua ciao ragazzi ehi ciao stavo pensando perché ma è tuo il pezzo di torta là? sì è mio e ti penso perché non sappiamo come dividerlo ma vi aiuto io a dividerlo Ben sei qua? cosa stai pensando? io penso che dobbiamo prendere cosa vuoi prendere? dobbiamo prendere altra torta che belle macchine dobbiamo andare a fare un giro così compriamo della torta sì saliamo su andiamo in pasticceria ma noi l'abbiamo già presa la torta ah sì sì l'abbiamo presa dentro le macchine dobbiamo solo portarle al tavolo allora una due tre ohio la pietra Ben Ben ti sei fatto male? non ti vedo dove sei Ben? Ben? oh sì la mia gamba aiutami aiutami ce l'abbiamo fatta Ben alzaci oh che vi è successo ragazzi? che vi è successo qua? ma Ben è caduto dalla macchina ha fatto l'incidente Ben oh sì ragazzi mi fa un po' male la gamba ma mi passa appena mangiamo dei dolcini sì portiamo i dolcini al tavolo dai portiamoli sono nella tua macchina vengo con voi ragazzi così mangiamo e dividiamo per tre mmm cosa dice Jacob? penso certamente di sì è una nostra amica facciamo pace per questi dolcini sì adesso andiamo a mangiare tutti insieme li mangiamo in tre sì vengo anch'io sì vieni con noi mmm guarda questi dolcini quanto sono buoni profumati adesso lo dividiamo in tre così del sole non significa più buonissimi buon appetito ragazzi buon appetito ragazzi buoni buoni che dolcini io pensavo che dobbiamo già trovare un albero per Natale anch'io ci ho pensato la stessa cosa Minnie che diamo al mister Elfo allora mmm sì che diamo a lui dai da casa salve mister Elfo noi vogliamo trovare un albero albero per cosa ragazzi? è l'albero per fare l'albero di Natale allora vi posso aiutare vado a vedere nel mio giardino che è pieno di albero sì sì ci trovo un albero mmm questo qui mi piace è bello verde mamma c'è un scogliatolino sopra vuol dire che l'albero è molto buono ragazzi adesso uno due tre non va giù quest'albero si vede che è tanto buono oddio oddio ci devo riprovare d'altra parte proviamo di qua ragazzi guardate non va giù l'albero c'è un scogliatolo sopra allora andiamo a vedere un altro albero sì andiamo a vederne un altro ma iniziamo di qua verso il parco allora c'è la piantina oh c'è quest'albero qui cosa dice il signoreppo? cosa dice lei? no ragazzi quest'albero non si può mettere come l'albero di Natale ma perché è sempre vita? ammigli perché non vedi che è bianco? allora facciamo così facciamo scendere lo scogliatolo per prendere la noce eccoci qua lo scogliatolino ve l'ho portato qua mmm buona la noce vero? sì lì mi sei stata bravissima a portarle la noce adesso vado a girare giù l'albero sì mister Elfo grazie mille lo seguo oh ho notato un altro albero uno nostro scogliatolo sì uno due oh è caduto eccolo ragazzi vi ho trovato un bellissimo albero dai mettiamo mettiamo i luci di Natale sopra sì sì ce l'ho io mini te li porto io brava ragazzina adesso fatelo bello bello questo albero questo scogliatolino lo mettiamo sull'albero dai oh la magia ha fatto la magia sì è la magia dello scogliatolo di Natale grazie mille scogliatolino che ci hai fatto questo regalo sì grazie mille grazie le luci anche le luci ci ha messo che bell'albero di Natale grazie mille 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 gra